ahah ok dai desi dai desi ehi un attimo a partenza un po' è un matto ma c'è anche un attimo venga salitorna dopo guarda eh c'è anche la salitorna ma hai detto ma a parte gli scherzi di desi noi siamo super trash devo dire la verità perchè oddio una tipa in bici perchè siamo combinati tipo così un attimo dai ma come lo stai facendo il video in orizzontale? in verticale tieni tieni mano a sinistra oh mio dio ok super trash ciao la madonna oddio 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 doc una panoramica una super panoramica? cioè di questa super composizione eh ciao pa che cosa vabbè vabbè, vediamo il video che tanto il senso, cioè ci siamo già resi di quelli abbastanza non si spegne e si non si spegne ah perché forse è bloccato aspetta come cavolo si sblocc- ah guarda 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 guarda